Pascal, tre antropologie su Epiteto e Montaigne. Il signor Pascal venne anche lui in quel tempo ad abitare a Poiroyal. Il signor d'Essassi non potè per urbanità esimersi al vederlo, soprattutto perché ne era stato pregato dal signor Sanglan. Ma i santi lumi che trovava nella scrittura e nei padri gli fecero sperare di non rimanere abbaiato dalla brillante intelligenza il signor Pascal che tuttavia incantava e conquistava tutti quanti. Ammetteva che parlava molto rettamente e riconosceva volentieri la forza della sua intelligenza e dei suoi discorsi, ma diceva che non vi si scorgeva nulla di nuovo. Tutto quanto il signor Pascal gli diceva lo aveva già letto prima di lui in Sant'Agostino e rendendo giustizia a tutti diceva il signor Pascal è estremamente degno di stima perché pur non avendo letto i padri della chiesa ha trovato da sé con la prespicacia della sua mente le stesse verità già trovate da loro. A lui sembrano stupefacenti perché non le ha lette in nessuna parte ma noi siamo avvezzi a incontrarle a ogni passo dei nostri libri. Così quel saggio ecclesiastico stimando che gli antichi non avessero meno lumi dei moderni vi si atteneva e apprezzava molto il signor Pascal per il fatto che andava d'accordo in ogni cosa con Sant'Agostino. Il modo abituale di condursi del signor d'Essassine e conversare con gli altri era di adeguare i propri discorsi a coloro con cui si intratteneva. Se per esempio conversava col signor di Champagne gli parlava di pittura. Se vedeva il signor Hamon lo intratteneva di medicina. Coloro che coltivavano il vigneto, le piante, i cereali gli dicevano tutto quel che si bisognava osservare. Tutto gli serviva per passare subito a Dio e per farci passare gli altri. Egli credette dunque opportuno mettere il signor Pascal sul suo terreno e parlargli delle letture di filosofia di cui si occupava maggiormente. Lo portò su questo terreno sin dalle loro prime conversazioni. Il signor Pascal gli disse che le sue letture abituali erano state Epiteto e Montaigne e gli fece grandi elogi di quei due autori. Il signor d'Essassine che aveva sempre creduto di dovergli leggere poco pregò il signor Pascal di parlargliene a fondo. Epiteto, gli disse il signor Pascal, è uno dei filosofi che meglio ha conosciuto i doveri dell'uomo. Vuole innanzitutto che esso consideri come suo oggetto principale Dio, che sia convinto che egli governa tutte le cose con giustizia, che si sottometta di cuore a lui che lo segue volontariamente in ogni cosa, da che egli non fa nulla se non con grandissima saggezza. Questa disposizione d'animo farà cessare tutte le lamentele e tutte le mormorazioni e preparerà il suo spirito a soffrire in pace tutti gli avvenimenti più incresciosi. Non dite mai, dice, ho perduto questo, dite piuttosto, l'ho reso, mio figlio è morto, l'ho reso, mia moglie è morta, l'ho resa, così dei beni e di tutto il resto. Ma chi me lo toglie è un malvagio, dite voi. Perché vi inquietate di chi sia colui mediante il quale chi ve l'ha prestato adesso ve lo richiede? Finché ve ne consente l'uso, abbiatene cura come di un bene che appartiene ad altri, come un viaggiatore considera se medesimo in un albergo. Voi non dovete desiderare che le cose avvengano come volete voi, ma che avvengano come avvengono. Ricordatevi, dice altrove, che siete qui come un attore e che rappresentate il personaggio di una commedia, quale piace al direttore di assegnarvelo. Se vi dà una parte corta, recitate la corta, se lunga recitate la lunga, se vuole che recitiate la parte di uno straccione dovete rappresentarla con la maggior naturalezza possibile e così via. Tocca a voi recitar bene la parte che vi ha segnata, ma la sua scelta aspetta a un altro. Abbiate ogni giorno davanti agli occhi la morte e i mali che vi sembrano più intollerabili e non avrete mai pensieri bassi né desidererete alcunché con eccesso. Epiteto mostra anche in mille maniere ciò che deve fare l'uomo. Vuole che sia umile, che nasconda i suoi buoni proponimenti soprattutto da principio e che li adempia in segreto. Nulla li guasta maggiormente che il metterli in mostra. Egli non cessa di ripetere che tutto lo studio e il desiderio dell'uomo debbono essere di riconoscere la volontà di Dio e di seguirla. Ecco signore, disse il signor Pascal al signor d'essa sì, i lumi del grande, di quel grande spirito che ha conosciuto così bene i doveri dell'uomo. Oserei dire che meriterebbe di essere adorato se ne avesse conosciuto altrettanto bene l'impotenza, perché bisognava essere Dio per apprendere agli uomini l'una e l'altra cosa. Perciò siccome era terra e cenere dopo aver così bene compreso i nostri doveri, ecco come egli si perde nella presunzione di quel che si può. Dice che Dio ha dato all'uomo i mezzi per adempiere tutti i suoi obblighi, che questi mezzi sono il nostro potere, che bisogna cercare la felicità nelle cose che sono in poter nostro, da che Dio ce le ha date a questo scopo, che bisogna vedere quel che c'è in noi di libero, che i beni di fortuna, la vita, la pubblica considerazione non sono il nostro potere e quindi non conducono a Dio, ma che la nostra mente non può essere costretta a credere quel che sa esserlo falso, né la volontà ad amare quel che sa renderla infelice. Che queste due facoltà sono pertanto libere e che per mezzo loro noi possiamo renderci perfetti. Che con esse l'uomo può perfettamente conoscere Dio, amarlo, obbedirgli, piacergli, guarire da tutti i vizi, acquisire tutte le virtù e rendersi così santo e compagno di Dio. Tali principi di diabolica superbia lo conducono ad altri errori, ad affermare ad esempio che l'anima è una parte della sostanza divina, che il dolore e la morte non sono mali, che quando si è talmente perseguitati da credere che Dio ci chiami a sé, ci si può uccidere e altro ancora. Quanto a Montaigne, del quale volete ugualmente che vi parli, egli essendo nato in uno stato cristiano, si professa cattolica, cattolico in ciò nulla di speciale, ma siccome ha cercato quale morale la ragione dovrebbe dettare senza la luce della fede, ha assunto i propri principi conforme a quest'ipotesi e così considerando l'uomo come privo di qualsiasi rivelazione, ecco come discorre. Egli sottopone tutte le cose a un dubbio universale e talmente generale che questo dubbio si volge contro di lui, cioè se dubiti e dubitando persino di quest'ultima supposizione, la sua incertezza si avvolge su se stessa in un circolo perpetuo e senza sosta, opponendosi in egual modo a quanti affermano che tutto è incerto e a quanti affermano che non tutto è tale perché egli non vuole affermar nulla. In questo dubbio di sé e in questa ignoranza che si ignora e che egli chiama la sua forma dominante sta all'essenza del suo pensiero che non ha potuto esprimere mediante nessun termine positivo. Infatti si afferma di dubitare, si tradisce affermando almeno questo, che dubita. E siccome questo è formalmente contrario alla sua intenzione, egli non ha potuto spiegare se non in forma interrogativa, di modo che, non volendo dire non so, dice che cosa so e ne fa il suo motto, mettendolo sotto bilance che pesando i contraddittori si trovano in perfetto equilibrio, ossia è un puro pirroniano. Sopra questi principi vertono tutti i suoi discorsi e tutti i suoi saggi, ed è la sola cosa che pretenda di stabilire fermamente, sebbene non ne manifesti sempre l'intenzione. Egli vi distrugge a poco a poco tutto quel che tra gli uomini passa per maggiormente certo, non per stabilire l'opposto con certezza, solo di questa il nemico, bensì per far vedere solamente che essendo uguali le apparenze da una parte e dall'altra, non si sa su che cosa assidere la propria credenza. In questa disposizione di spirito, egli si prende il gioco di tutte le certezze, per esempio combatte coloro che hanno creduto di istituire in Francia un gran rimedio contro i processi con il gran numero e la pretesa giustizia delle leggi, come se si potessero estirpare le radici dei dubbi da cui nascono i processi e ci fossero dighe capaci di contenere il torrente dell'incertezza e di incarcerare le congetture. Quando dice che tanto varrebbe sottomettere la propria causa al primo che passa, che ha giudici armati di tanti decreti, egli non pretende che si debba mutare l'ordinamento dello Stato. Non ha tanta ambizione, né pensa che la sua opinione sia la migliore, anzi, pensa che non ce ne sia nessuna di buona. Lo fa soltanto per provare la vanità delle opinioni più accreditate, mostrando che l'abolizione di tutte le leggi porterebbe a diminuire il numero delle liti, meglio di questa moltitudine di leggi, che serve solamente ad aumentarle perché le difficoltà crescono via via che vengono soppesate e le oscurità si moltiplicano per opera dei commentari e che il mezzo più sicuro per intendere il senso di un discorso è di non analizzarlo e di prenderlo così come si presenta. Se lo si esamina solo un po', ogni chiarezza svanisce. Così egli giudica a di tutte le azioni degli uomini e dei fatti storici, ora in un modo, ora in un altro, seguendo liberamente la sua prima opinione e senza soggettare il proprio pensiero all'enorme della ragione, i cui parametri sono sempre falsi. Felice di far vedere con me, con il proprio esempio, le contraddizioni di una stessa mente. Conforme a questo genio liberissimo, per lui è uguale vincere o no nelle dispute, avendo sempre, in entrambi i casi, un mezzo di far vedere la debolezza delle opinioni, insediato con tale superiorità in quel dubbio universale da rafforzarsi ugualmente sia con la vittoria, sia con la sconfitta. Da questa posizione, pur così fluttuante e vacillante, egli combatte con invincibile fermezza la pretesa degli eretici del suo tempo di conoscere essi soli il vero senso e la scrittura. Ed egualmente da essa fulmina, ancora più vigorosamente l'oribile e in pietà di coloro che osano sostenere che Dio non esiste. Egli li attacca in modo particolare nell'Apologie de Raymond de Sebonne e trovandoli volontariamente privi di ogni rivelazione e ridotti e soli lumi naturali, esclusa ogni fede, domanda loro con quale autorità si impanchino a giudicare di quell'essere supremo che per definizione infinito, essi che non conoscono veramente nemmeno le infime cose della natura, chiede loro su quali principi si fondino, intima loro dimostrarli, esami a tutti quelli che possono addurre e vi penetra così addentro, con il talento in cui eccelle, da mostrare la debolezza di tutti quelli che passano per i più manifesti e più fermi. Domanda se l'anima conosca qualche cosa e conosca se stessa, se sia sostanza o accidente, corporea o spirituale, che cosa sia ognuna di queste cose e se non ci sia nulla che non sia di uno di questi ordini. Se conosca il proprio corpo e che cos'è la materia e se possa discernere tra l'innumerevole varietà dei corpi, come possa ragionare se è immateriale e come possa essere unita a un particolare corpo e risentirne le passioni se è spirituale, quando essa abbia cominciato a essere, se insieme col corpo o prima e se finisca con esso o no, se non si ganni mai, se sappia di errare, da che l'essenza dell'errore sta nel non vedersene. Se, nei suoi momenti di obnubilamento, non creda che due più tre fanno sei con la stessa fermezza con cui, in un momento dopo, crede che facciano cinque. Se gli animali ragionino, pensino, parlino. E chi possa dire che cos'è il tempo, che cos'è lo spazio, estensione, il movimento, l'unità, tutte le cose che ci circondano e che sono affatto inesplicabili. Che cosa siano la salute, la malattia, la vita e la morte, il bene e il male, la giustizia e il peccato di cui parliamo continuamente.